buongiorno scusi una cosa sia l'oculista per favore oculista si ma che c'ha della cacca lì il cacca perché non capito ma faccia vedere e la porta in giro così che devo fare il pacchetto regalo mi dice per piacere guardi l'analista perché lei deve andare dall'analista e in fondo all'oculista mi dice l'oculista per favore dov'è e la prima porta qui a destra ok grazie ma che non capisco un chiesto oculino l'analista e se chiede le caccia ho il mio miglior premosto ma non è tu prego prego sia posto mi permesso prego buongiorno lei è l'oculista si è oculista e cacca ma io sono oculista l'analista in fondo lei deve andare dall'analista che in fondo a questo corridoio ma io lo so ma io ho bisogno proprio dell'oculista e perché e volevo fare una domanda com'è che quando faccio la cacca così grossa più mi vengono le lacrime agli occhi